Sospeso il servizio trasporto giro anziani e disabili dei rioni Belvedere e Serroni al cimitero. Sospensione che si protrarrà fino a lunedì prossimo. L'ha disposto il dirigente dell'area dei servizi sociali, la dottoressa Anna Pannullo, a seguito delle segnalazioni fatte dagli addetti al parco Otomezzi. Le motivazioni della sospensione riguardano le condizioni obsolete degli autobus comunali, che devono essere praticamente ricoverati in officina per la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta. E' stato assicurato il servizio trasporto scolastico per gli alunni disabili da altro autobus.